buongiorno amici criptonauti amici di oggi questa è la consueta analisi domenicale dove andremo a vedere bitcoin ethereum matic dot solana ada e link solana e ada che sicuramente hanno dato spettacolo nella scorsa settimana seguito da bitcoin che sta raggiungendo un punto critico vi invito tutti a lasciare un like al canale a iscrivervi per avere gli ultimi aggiornamenti e a seguirci sui canali telegram soprattutto nella chat gratuita iniziamo subito con l'analisi partiamo da bitcoin time frame 4 ore dove avevamo dato un target possibile di un top locale in questa zona qua giù azzurrina potete andare a vedere le scorse analisi qua giù la zona era intorno ai 51.161 range che arrivava fino a 51.500 sicuramente questo piccolo top ci si è avvicinato molto abbiamo missato l'exit di circa 100 dollari questo qua potrebbe essere a tutti gli effetti un top locale lo si può notare anche dalla conformazione che sta prendendo il trend dove vediamo che si sta indebolendo andando di fatto a formare o a cominciare quello che potrebbe essere un trading range con bottom a 46.000 una volta rotti i 46.000 si potrebbe scendere e andare a fare un nuovo tocco sui 42.500 che tra l'altro 42.500 che se allarghiamo il grafico possiamo notare essere comunque un livello particolarmente sentito tra i 42.500 e i 42.000 vediamo che ci sono stati diversi casi in cui questo livello è stato sentito dal mercato il primo è stato questo massimo locale in data 9 gennaio 2021 lo ricorderete tutti gennaio non fu un mese semplicissimo per le cripto perché comunque ci fu questa correzione qui mostruosa di circa il 22 25 per cento che non ci lasciò indenni poi arrivò la notizia di tesla e il resto è storia ecco in questo momento ci troviamo in questo caso qui ovvero perdita del momentum del trend lo si nota anche dal fatto che come si diceva nella scorza analisi si sta venendo a formare di fatto quella che è una divergenza ribassista che si sta accumulando già su time frame elevati quindi quattro ore e in particolare sul daily è ben visibile quindi come comportarci io personalmente ho chiuso per adesso gran parte delle posizioni long ovviamente quelle speculative non quelle in spot quelle in spot tra virgolette da cassettista da odler le sto continuando a mantenere nel caso ci si può coprire parzialmente con i futures a leva con uno short comunque il primo livello da andare a ritestare sicuramente è questo qua dei 46.800 qua giù dovremo vedere come reagisce il mercato però dobbiamo sempre tenere a mente che comunque veniamo da una ripresa nel mercato veramente fantastica attorno al 65 70 per cento quindi anche nel caso di un dump piuttosto violento in zona 42.500 non dobbiamo lasciarci prendere dal panico e cominciare a urlare alla fine del bull market per il semplice motivo che dopo una salita del 70 per cento se un asset vi ritraccia di circa il 18 barra 20 per cento sicuramente capite bene che non è niente di allarmante ecco dai top di ora abbiamo un 15 per cento possibile di ritracciamento questo qua sarà un livello particolarmente fondamentale perché chiaramente noi ci aspettiamo una buona reazione qua giù se non dovesse reagire qua giù ecco lì allora sarebbe il caso di fare un attimo momento locale sicuramente la view diventerebbe ribassista per il semplice motivo che andremo a ringarbugliarci all'interno di quel grande range che si è venuto a formare per tutti i mesi post dump quindi da maggio fino a fine luglio tendenzialmente quindi questi sono i livelli più interessanti quindi li ripetiamo 46.800 e di particolare attenzione questa zona che non è mai stata ritestata effettivamente e correttamente dal mercato che è questa qua dei 42.000 42.500 anche se il prezzo ripeto dovesse arrivare in questa zona qua giù non ci sarebbe assolutamente niente di allarmante l'altra view prevede la continuazione del trend cosa che reputo anch'io meno probabile ma per il semplice motivo che si vede molto bene anche proprio la price action si vede possiamo vedere come effettivamente anche le medie mobili associate vadano ad appiattirsi quindi andando a far perdere forza al trend nel caso dovesse invece rompere questa zona che avevamo individuato sui 51.500 allora si aprirebbe probabilmente un breve lasso di tempo in cui con un bell'impulso andremo a recuperare circa un 8 barra 10 per cento del mercato andando di fatto su questo livello di convergenza tra una resistenza e un livello di fibonacci a 56.309 infatti come vedete non segna il livello preciso al millimetro ma alla fascia dove è più probabile che il prezzo vada a incontrare una resistenza che poi la vada a trovare uno 0.2 per cento più su uno 0.2 per cento più giù su questi time frame qua giù lascia abbastanza il tempo che trova continuiamo con ethereum altro grande protagonista che dopo questa figura di accumulazione mostruosa attorno ai 3.300 sicuramente è riuscito a sfondare ecco l'approccio a questo livello qua giù dei 3.600 non mi è piaciuto particolarmente non mi è piaciuto per il semplice motivo che il mercato non ha respirato qua giù si vede a occhio nudo banalmente con un livello statico che questa resistenza qua giù ha ancora bisogno di essere flippata quindi che cosa significa significa che deve essere ritestata dal mercato per poter far continuare il trend in maniera consona ethereum ci si può riaspettare quindi sempre su questi livelli quindi 3.600 sarebbe sicuramente un ottimo punto di ingresso soprattutto valutando come ci arriva chiaramente è chiaro che se arriva una candela di quattro ore che ti buca il supporto senza colpo ferire e va giù è logico che aspetto a entrare questa è buonsenso non è grandi strategie di trading mentre al di sotto 3.300 forniranno sicuramente supporto al di sotto dei 3.300 si scenderebbe forte perché fondamentalmente abbiamo questo buco qua giù che però è stato testato più e più volte abbiamo accumulato tanto in questa zona qua giù ma una volta perso questo livello il supporto successivo è attorno ai 2.900 quindi ethereum ancora in forte uptrend inutile ovviamente sottolineare come una fase di debolezza di bitcoin andrebbe a intaccare necessariamente in parte anche le alta ethereum non penso che vada a rompere l'ultima IG così facilmente ma avrà ancora un pochino bisogno di tempo e quindi di fare magari una figura di questo genere questa sarebbe sicuramente l'opzione migliore che mi aspetto per ethereum passiamo poi a matic matic che finalmente è andato a rompere questo livello qua giù di fibonacci che tra l'altro era un'estensione molto interessante anche questa qui sentita svariate volte dal mercato 1 2 e 3 qua giù con doppio massimo ravvicinato che poi ha seguito ovviamente il ritracciamento nella zona degli 1 e 36 adesso l'abbiamo rotto e vediamo come effettivamente stia cercando di flipparlo a supporto quindi matic per adesso view sempre rialzista matic ottimo in caso di rientri possibile sicuramente sempre andare ad attenzionare gli 1 e 36 il trend rimane rialzista fin tanto che manteniamo intatti gli 1 e 22 su chiusura daily quindi dot di nuovo qua giù abbiamo dei livelli interessanti quelli toccati da questo massimo qua qua giù abbiamo una fascia di resistenza abbastanza potente questo qua nel rettangolo giallo che è stata mangiata molto molto bene e qua giù stiamo cercando anche qua di flipparla a supporto i livelli successivi sono a 36 circa 35 e 9 barra 36 una volta rotto questo livello si potrebbe tranquillamente andare in zona oltre i maig anche qua dot mi aspetto delle grandi cose anche perché finalmente forse le parashane auction sono alle porte ricordo a tutti inoltre che attualmente sono in corso le parashane auction di kusama il secondo round che assegnerà 5 slot vi invito a studiare i progetti i progetti più interessanti per adesso quelli che sono più avanti che sono più papabili della vittoria degli slot delle parashane sono nel dettaglio calamari finance che su dot si chiamerà manta finance ci sarà poi basilisk altair ed altre andate pure a vederlo su polkadot.js sull'applicazione potete vedere a che punto stanno i crowd loan si chiamano quindi quelli lì ottimi investimenti ricorderei a tutti quello che è stato un river alcuni dell'academy hanno partecipato e ne sono rimasti molto soddisfatti continuiamo poi con solana solana è l'esempio perfetto di come fibonacci non funzioni assolutamente nulla e sia un autoconvincimento delle persone ovviamente magia nera questo qua è fibonacci è un fibonacci tracciato già da diverso tempo qua giù potete vedere tre dei livelli delle estensioni che aveva già individuato che è andato a colpire in queste settimane qui in cui c'è stata questa bull run pazzesca ma come continuiamo a dire fibonacci è assolutamente magia nera e non serve assolutamente a niente andiamo nei setting per andare a vedere perché il prezzo è andato a toccare questi livelli ricordo che siamo in price discovery quindi qua giù non abbiamo riferimenti tecnici di alcun tipo quindi qua giù andiamo a vedere le estensioni prossime dove vanno a cadere ok questa è una questa è un'altra questa è un'altra ancora e questa è un'altra ancora come vedete è solo fibonacci qua giù io non ho assolutamente tracciato nessun livello e francamente non ho neanche guardato il grafico semplicemente ho tracciato le estensioni di fibonacci come potete vedere come strumento per carità niente di particolarmente interessante comunque sembra quasi abbastanza preciso ma ricordo a tutti fibonacci è magia nera ed è autoconvincimento continuiamo con ada avevamo segnato la possibile anche qua giù non ci trovavamo in price discovery bisognava andare a trovare un punto dove il prezzo è probabile avesse trovato avrebbe trovato scusate una resistenza la fascia era questa qui blu sicuramente molto estesa perché si tratta di un 10 per cento di prezzo il prezzo attualmente è andato a toccarlo appena andando a trovare circa i 3 10 ovvero in concomitanza con una market cap di ada di 100 miliardi era questo qui il senso di studiarsi la possibile market cap a un determinato prezzo per trovare delle fasce di resistenza qua giù in alta abbiamo un'estensione di fibonacci qua giù in basso invece avevamo market cap di ada a 100 miliardi quindi in questa fascia qua giù sarebbe stato probabile un ritracciamento per adesso il ritracciamento non è stato niente di particolarmente violento si parla di circa un 10 per cento dai massimi non è niente di che per un altcoin ma possiamo aspettarci se bitcoin conferma questa fase di debolezza una discesa ulteriore i primi livelli da attenzionare sono sicuramente i 2 e 50 scendendo poi fino a questa zona qua giù dei 2 e 12 anche a 2 e 12 in realtà la bull run non è compromessa per essere compromessa so che andiamo in basso ma bisogna anche valutare che l'estensione di prezzo è abbastanza marcata il bull market non è di ada non è intaccato fin tanto che non chiudiamo il daily sotto gli 1 e 90 ovvero su questo top qua giù quindi ada i livelli sono questi nient'altro da aggiungere tra l'altro proprio oggi dovrebbe essere uscito uno dei primi smart contract su ada concludiamo con link chart un attimo sporca perché non l'avevo ripulita a sufficienza qua giù vediamo link che è ancora abbastanza indietro rispetto ad altre coin fondamentalmente qua giù vediamo che non ha ancora recuperato questo top quindi primo livello sicuramente interessante è questo qua una volta flippato questo livello dei 35 anche qui si può andare tranquillamente all'attacco prima dei 44 dopodiché dell'ultimaic livello inferiore interessante di prezzo sicuramente questa fascia di prezzo questa fascia di prezzo molto molto interessante a 24 anche qui il movimento impulsivo non viene compromesso fin tanto che noi resistiamo al di sopra dei 22 che si trova in questa zona qua giù quindi link resta comunque uno dei miei progetti preferiti sicuramente la narrativa degli oracoli è un po' decaduta sono sicuramente delle cose un pochino come si può dire noiose però resta un progetto fondamentale per lo sviluppo in particolare della DeFi andate a studiarvi cosa sono gli oracoli sulla blockchain e soprattutto vedrete che ce ne sono diversi e tutti hanno fatto comunque dall'inizio delle performance molto molto buone questo è tutto per l'analisi di questa domenica spero vi sia interessata e ci vediamo come al solito alla prossima domenica iscrivetevi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati così ricevete automaticamente l'analisi e noi ci vediamo presto sempre sui mercati ciao